Stavo cercando una documentazione per costruire un personaggio di una pin-up girl. Per me l'idea della pin-up è l'idea di un personaggio comunque accattivante, malizioso, che comunque ispiri un erotismo pulito, candido, che non sfocia mai nella volgarità. Il mio riferimento sulle pin-up chiaramente sono quelle classiche, va chiaramente quindi agli anni 50 e 60, nel momento in cui nascono in America. Le vediamo anche qui nei primi manifesti pubblicitari perché comunque per pin-up nel termine americano credo che si intenda proprio qualcosa da appendere, qualcosa che gli americani dopo la guerra hanno iniziato ad appendere praticamente sia nei negozi commerciali oppure nelle case. Grazie a dei fotografi come Arvin Clough che fotografava delle ragazze succinte e le spediva poi per corrispondenza a chiunque fosse interessato. Dopodiché diventa un fenomeno molto più popolare. Ne fanno parte di questo mondo anche attrici come anche la prima Marilyn Monroe o la grandissima Betty Page. Questo a livello di attrici, di pose e di fotografia. Per quanto riguarda invece la pin-up girl, cioè la ragazza da attaccare, la ragazza che andrà in copertina, quelli che intendiamo noi adesso che appunto appartengono al mondo dei fumetti e quello che proveremo oggi, dobbiamo vedere altro tipo di artisti. Iniziamo quindi a buttare giù un'idea di una pin-up girl, cioè di un personaggio femminile a pin-up, molto caricaturale rispetto a quelle diciamo realistiche che si intendono più pittoriche, quelle degli anni 50, quelle che hanno reso famoso i mostri sacri come G. Lev Green e George Pitty in particolare. Il mio riferimento invece va a dei disegnatori di fumetti molto diciamo moderni, dove il dio in assoluto si chiama Bruce Timm, è quello dove mi ispira di più insieme a Frank Cho, insieme ad Adam Hughes e ad altri illustratori americani. L'idea mia di buttare giù un personaggio di oggi lo faremo semplicemente con un foglio di carta molto pesante sui 220 grammi e una matita, un HB per iniziare, quindi non troppo pesante ma che ci serve comunque a dare la prima idea dello scheletro della costruzione. La mia idea di pin-up appunto si rifà un po' a quelle di Bruce Timm, quindi parliamo di un personaggio che non è realistico ma che è costruito usando dei canoni diciamo un po' particolari, che può essere quella della testa che è sempre un po' più grande rispetto al corpo e questa cosa mi piace molto, anche se vengono spesso e volentieri appunto escono fuori delle ragazze comunque particolari. Se si pensa appunto alla costruzione femminile con un capoccione, però danno un'idea, non lo so, di grazia, a me piace così. Quindi una volta buttato giù comunque la testa che so che è comunque più grande del corpo, la prima cosa io che vado a segnare sulla testa è la frangetta perché la mia concezione appunto di una pin-up girl è data essenzialmente dalla frangetta, probabilmente sono rimasto traumatizzato dall'effetto di Betty Page ma da allora la mia idea della ragazza è la frangetta, quindi una volta che io metto il segno della frangetta su capello liscio e anche moro, bisogna dire, per me sto quasi a metà dell'opera. Dopodiché il resto del corpo che caratterizza una pin-up è un po' più piccolo, abbiamo detto, della testa ma con i fianchi e con la misura dei fianchi e delle spalle che comunque sia hanno le stesse proporzioni e quindi avremo una vita chiaramente più piccola. Riguardo la posizione della ragazza chiaramente esistono varie forme quasi standard che chiaramente ne rappresentano il suo essere malizioso e comunque non è sufficiente riprendere una qualsiasi posizione per rendere chiaramente affascinante la pin-up. Di solito sono messe sempre in evidenza le gambe, i piedi ma soprattutto lo sguardo. Quello che a me infatti affascina dei personaggi a pin-up sono gli sguardi chiaramente delle ragazze che sono quelle diciamo che fanno comunque riferimento agli anni 50 dove non hanno assolutamente un linguaggio, non usano chiaramente un linguaggio volgare con il corpo ma rimangono sempre affascinanti mantenendo chiaramente una carica di erotismo. Nel momento in cui uno fa un minimo di documentazione e trova una posa interessante può partire rispettando appunto questi canoni che ci eravamo detto ovvero cercare di stringere sempre più la forma della vita ed eventualmente esasperare il seno. Io sto usando una un HB anche perché tendo molto a calcare, quindi se avessi iniziato già con una matita più pesante come una 2B già a quest'ora avrei annerito tutto il foglio. Vestire una pin-up è abbastanza semplice perché per la maggior parte delle volte le pin-up sono nude o semi nude, di solito è sempre un costumino che la renda ancora più erotica diciamo. L'idea di una pin-up con pochi vestiti è più erotica o comunque da più charme rispetto a un corpo nudo femminile. L'idea di una pin-up con pochi vestiti è più erotica. Inizio già a ripassare in maniera più decisa il repatico abbozzato. Lo studio dell'anatomia realistica è sicuramente importante. Nel mio caso per arrivare a un tipo di segno molto più caricaturale, comunque sia meno realistico è stato anche portato dalla mia esperienza scolastica. Avendo appunto fatto una scuola di animazione, di cartone animati, mi è stato un po' più semplice rimanere fermo su un tipo di proporzioni e un tipo di personaggi molto più caricaturali che realistici. Ed è quello che poi ho seguito e dopo ho trovato una strada seguendo determinati maestri del fumetto, dell'animazione, dell'arte. In questo primo schizzo si possono vedere delle piccole regole, delle forme anatomiche di cui parlavamo prima. Quindi una testa un po' più grande, un vitino e dei fianchi più prosperosi. E adesso passiamo all'espressività della ragazza. Per quanto riguarda l'espressione poi da mettere nel volto, di solito uso fare degli occhi grandi perché chiaramente l'espressività dello sguardo dell'occhio è la parte più grande, la parte più appariscente. La parte fondamentale dell'espressione è lo sguardo del personaggio, quindi della pin-up girl verso il lettore. Dovrebbe chiaramente, sì, è la mia idea, guardarlo dritto negli occhi, un po' come senso di sfida, un po' come senso di ammiccamento. Comunque sia dovrebbe sempre avere lo sguardo verso chi lo osserva. Un nasino piccolo e bocca del solito grande, comunque sorridente. Un nasino piccolo e bocca del solito grande, comunque sorridente. Laddove voglio enfatizzare più i neri, prendo una matita 2B, chiaramente più grassa, ma questo solo per il gusto di vedere il nero della matita e il tipo di grana della matita che si forma nel cartoncino. In questo caso abbiamo detto un 2,20, ovvero un cartoncino capace di assorbire i segni, cioè la pressione, diciamo, della matita più dura. Su un cartoncino è chiaramente liscio per questo tipo di sketch. A questo punto non rimane che dare una sorta di decorazione al costumino, tanto per dargli un'immagine un po' più... e di distaccarla comunque dal corpo. Chiaramente anche se è un carton è importante dare comunque un minimo di tridimensionalità al disegno. In questo caso, appunto, una matita 2B è quello che fa per noi, perché calcando un po', diciamo, che si arriva a dare delle tonalità interessanti per dare un minimo di tridimensionalità. Chiaramente ci sono dei tratti molto più, diciamo, veloci, sbrigativi ed altri un po' accurati. Adesso per una questione di tempo, diciamo, che il segno, diciamo, più veloce è quello che ha preso piede. Chiaramente con un po' più di tempo uno può renderlo un po' più accurato. Una volta che ho il corpo e la posizione che mi soddisfa, non rimane che dargli un senso di inquadratura molto veloce e chiudere qui il primo sketch, diciamo, iniziale, fatto solamente con una matita HB e 2B. Pensavo di dargli dei piccoli ritocchi di colore. Chiaramente la prima cosa che mi viene è quella di curare il rossetto. O spesso anche le unghie dei piedi e delle mani, nel caso abbiamo delle loro mani, diciamo, in evidenza. Questi sono pennarelli a base alcolica e chiaramente hanno un impatto sulla carta molto interessante, perché possono essere sfumati andando ripetutamente sopra. Spesso per i neri non ricorro nemmeno al pennarello nero, quello pieno, ma è sufficiente una matita molto più grassa, una buona punta, per ritoccare delle parti che desideri aumentare il nero. Tutto questo già è sufficiente una 2B. Tutto questo già è sufficiente, una cosa interessante può essere il ritorno del pennarello sulla matita molto grassa. Diciamo che uniforma molto il segno, dandogli una pienezza maggiore della matita. In questo momento sto usando una punta a scalpello, ma non so perché, perché di solito io lo uso sempre quella a pennello, però vedo che anche con lo scalpello si riesca a fare qualcosa di preciso, chiaramente usandolo inclinato. Con la gomma chiaramente ho dato una ripulitina, creando anche una zona diciamo un po' più luminosa, togliendo la prima matita. A questo punto potremmo anche dare un colore unico sempre a questi pennarelloni ad alcol, tanto per far emergere un po' più la pin-up. Parliamo sempre comunque di uno schizzo veloce e di un primo sketch, di diciamo, di primordiale comunque sì. Questo tipo di pennarelli sono molto soddisfacenti, perché nel momento in cui appunto li passi e vedi comunque il colore che piano piano viene assorbito dalla carta e quindi sai se andare a ripassare o lasciarlo come primo impatto. Sto continuando a usarlo chiaramente a scalpello, con la punta a scalpello, ma chiaramente se lo giro mi trovo anche un'ottima punta a pennello. In questo caso lo preferisco perché dà comunque l'idea di un segno più veloce, più schiacciato, cioè più a primo impatto e non per forza rifinito. Volutamente non rifinito comunque sì. Per questo tipo di pennarello, adesso con una prima stesura, in realtà uno potrebbe continuare e perdersi per molto più tempo. Ora per una questione appunto di tempo, mi fermerò diciamo ai primi, ma in realtà uno potrebbe benissimo appunto continuare, andare sopra le prime velature, per accentuare comunque un po' di scuro. E questo te lo permette chiaramente anche un pennarello solo, senza bisogno di sceglierne comunque uno un po' più scuro, perché questo tipo di pennarelli hanno una gamma di grigi notevole. Noi ci fermeremo diciamo con uno solo, perché il tipo di carta ci permette di andare ci sopra e di creare comunque dei chiaroscuri interessanti. La mia idea è quella di uno sketch veloce, quindi basterebbe un primo strumento, che potrebbe essere questo qui, per portare avanti poi tutto il disegno. Potremmo usare invece altro tipo di grigi, sempre di questi pennarelli, per aumentare il nero. Anche qui qualsiasi pennarello a base alcolica di questa gamma andate a mettere sopra la matita e più abbiamo l'effetto di un nero pieno e compatto. Io per adesso non ho usato nessun pennarello nero e nessun tipo di ritocco con il nero. Ho usato semplicemente la matita come neri e questi grigi da andarci sopra. Più chiaramente si insiste su una zona e più riusciamo a trovare una tonalità di scuro che ci serve. Sto ritornando nelle parti dove voglio aumentare un po' più lo spessore del nero, ma solo nella parte decorativa. Dopodiché sarebbe interessante ritornare sempre con la matita, almeno con la 2B, per riprendere dei segni che voglio riscurire ancora di più. A questo punto sono soddisfatto dello sketch e mi fermo qui. That's right. A questo punto sono soddisfatto di un po' più di più di più di più di più. A questo punto sono soddisfatto di un po' più di più di più di più di più.